Come rendere invisibili queste piccole sfere? Scopriamoli insieme! Per l'esperimento di oggi ci serviranno delle piccole sfere fatte di un polimero speciale, un polimero superassorbente. Infatti se le lasciamo in acqua per tante ore, poi il risultato sarà questo. Queste sfere sono in grado di assorbire tanta tanta acqua e possono aumentare il loro volume anche di 300 volte. Proviamo ora a posizionarle dentro questo vaso. Dopo aver assorbito tanta acqua, la loro consistenza è cambiata molto. Da che erano solide e rigide, sono diventate quasi gommose. Infatti hanno una consistenza molto simile alla gelatina. Vediamo cosa succede se andiamo a versarci dentro dell'acqua. Quasi come per magia, le sfere sono sparite, non si vedono più, eppure ci sono. Ma come mai avviene questo? Le nostre sfere ora sono composte per lo più di acqua e anche il loro indice di rifrazione è molto simile a quello dell'acqua. Questo significa che quando la luce le attraversa, non viene deviata, prosegue in modo rettilineo, dandoci l'illusione che le sfere siano sparite. Ed ecco allora com'è l'acqua ci ha aiutato a rendere invisibili delle piccole sfere.